e buongiorno a tutti oggi vedremo come effettuare tre operazioni abbastanza semplici su un video che però che se non si conoscono gli strumenti adatti non sono così del tutto banali fare questa operazione si utilizza il software video to video converter che è supportato da windows da tutti tutti i sistemi operativi windows e che può essere installato scaricando da questa pagina andando su download le operazioni che vedremo sono quella di togliere l'audio a un video aggiungere l'audio a un video che non ha audio oppure sostituire l'audio a un video cominciamo con la prima ozione cioè quella di togliere l'audio a un video sono preparato dei video questo è il primo video è un video con audio quindi adesso vedremo come fare a togliere l'audio a questo video si va qua su aggiungi video seleziona appunto questo video e adesso dobbiamo scegliere il formato di uscita il formato di uscita che per semplicità scegliamo l'identico a formato di entrata formato di input scegliamo mp4 qui sulla destra ci sono tutti i codec e le opzioni di personalizzazione noi ci interessano le opzioni audio andiamo qua su disattiva audio di default e no noi invece metteremo sì yes e andiamo su ok a questo punto noi possiamo convertire questo questo video e verrà tutto ricodificato senza audio perché l'abbiamo appunto disattivato scegliamo la cartella di destinazione in questo caso desktop per semplicità andiamo su converti qui sotto si vedrà la percentuale di conversione se la si vedrà anche qua e questo è il video senza audio che è stato aggiunto ci facciamo un doppio clic sopra come vedete cioè come non sentite e senza audio prima operazione seconda operazione è quella di aggiungere un audio a un video che ne è sprovvista andiamo qui su strumenti mux audio video allora scegliamoci il video che non ha audio per esempio uno slideshow lo sposto qua questo slideshow non ha audio se ben mi ricordo infatti non ha audio dunque aggiungiamoci per esempio una musica di sottofondo allora qua in plus video scegliamo appunto il video senza audio questo e qui scegliamo il flusso dell'audio cioè la musica di sottofondo scegliamo questa qua però vediamo un attimo la situazione andiamo sul testo del mouse qui e scegliamo proprietà andiamo sui dettagli questa canzone dura 5 minuti e 48 secondi va bene vediamo quanto dura invece questo video andiamo su proprietà andiamo sui dettagli questo video dura 8 secondi evidentemente c'è una bella differenza allora cosa si fa si mette la spunta qua su interrompi in base al flusso più qui mancano una parola ma significa interrompi in base al flusso più corto nel senso che la codifica del video terminerà quando il flusso più corto di video o di audio sarà terminato qui si clicca per selezionare appunto l'audio andiamo su apri a questo punto è già impostato impostato il video è impostato l'audio si è messo la spunta qui per far terminare il video quando fa terminare l'audio quando termina anche il video quindi è importante a questo caso scegliere un o un audio della stessa lunghezza del video oppure un audio più lungo in modo da far terminare l'audio al momento opportuno si va su ok si sceglie naturalmente il formato di uscita andiamo su ok adesso si va su converti come cartello destinazione abbiamo sempre scelto desktop si converte per la conversione qui è già stato convertito adesso vediamo se in effetti ci sarà l'audio è stato aggiunto l'audio soltanto per gli 8 secondi la musica eccedente a questi 8 secondi non è stata questa in considerazione terzo esempio quello di sostituire un audio con un altro prendiamo un esempio ancora questo video qua questo video a questo audio vogliamo sostituire questo audio con quest'altro infatti che mi sa che sia lo stesso no non è lo stesso comunque sostituiamo questo audio di questo video con l'audio di quest'altro video andiamo sempre qua su strumenti mux audio video scegliamo il flusso video da qua il flusso audio lo scegliamo da qui anche in questo caso dobbiamo mettere la spunta qua per interrompere l'audio nel momento in cui finisce il video andiamo su ok scegliamo mp4 come al solito ok ancora facciamo la conversione e lo faremo terminare sempre nella cartella desktop andiamo su converti questa operazione sarà più lunga perché il video ma neppure tanto infatti adesso se facciamo due clic sopra questa musica è diversa da quella invece che era qui nel file originale quindi non importa neppure togliere l'audio da un video per poi sostituirlo con un altro la sostituzione è immediata cioè quando si aggiunge un altro video automaticamente viene eliminato anche il video preesistente cioè l'audio preesistente credo di essere stato abbastanza chiaro e per adesso insomma è tutto